Buongiorno a tutti. È partita la procedura di mobilità per il personale docente per l'anno scolastico 2021-2022 tra problemi vecchi e nuove questioni particolarmente delicate. Se dopo i primi orientamenti della giurisprudenza del lavoro la questione relativa alla valutazione ai fini della mobilità dei servizi prestati nella scuola paritaria è raggiunta, sembrava, al capolinea con le pronunce della Corte di Cassazione del 2019, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale forse lascia un margine di speranza per quanti rivendicano la valutazione dei servizi prestati nella scuola paritaria ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera. Vedremo dopo l'udienza del 23 giugno cosa succederà. Altro fronte aperto è quello riguardante il mancato riconoscimento da parte del contratto collettivo sulla mobilità della precedenza per l'assistenza ai genitori disabili gravi nella mobilità interprovinciale. Anche qui la giurisprudenza si è espressa con pronunce di diverso tenore. Se da un lato molti tribunali e qualche Corte d'Appello ha dichiarato la nullità delle disposizioni del CCNI laddove non prevedono questa ipotesi di precedenza, d'altro lato ci sono altrettante pronunce in senso negativo. Vedremo quale sarà l'evoluzione anche su questo fronte, tuttavia consigliamo di dichiarare a chi si trovasse in questa condizione l'assistenza al disabile grave anche nella domanda interprovinciale. Un nuovo fronte di possibile contenzioso è invece quello riguardante il vincolo quinquennale imposto ai neo immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2020 e ai docenti assunti dal 1 settembre 2019 dal DDG 85 2018. Qui si pongono seri profili di legittimità costituzionale della norma che ha posto il vincolo quinquennale ed a fronte della mancata eliminazione del blocco da parte della politica nonostante i continui proclami sicuramente la strada giudiziaria è quella più probabile. Vedremo come andrà a finire. Arrivederci. Grazie.